Un altro incidente a Dolmo, lungo la strada regionale 71, a farne le spese nuovamente l'abitazione della famiglia Casimirri, ancora in parte inagibile e transennata per un altro schianto, quello dello scorso 30 agosto, quando nella notte una Porsche aveva sfondato un muro della casa. Non si può entrare tanto sopra che sotto. Sono due stanze, una sopra e una sotto, che sono sciollate di fida dai vicini del fuoco. Si tratta infatti del quarto incidente in poco più di due mesi, una situazione ormai insostenibile per la famiglia. Si vive male anche la notte, perché al primo tronfo che si sente, si ha paura che sia in casa, che cada la casa. E ce n'è un'altra, che se non si fa la zetta, io il morto, mi dispiace a che succederà, ma faccia conto che tutte le notti l'aspetto. L'ultimo schianto questa mattina, poco prima delle 8, quando una smarta è finita sullo spartitraffico al centro della carreggiata è poi andata a sbattere contro le mura dell'abitazione vicina e poi si è schiantata su un furgone parcheggiato nel piazzale e danneggiato ad esso seriamente. Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per il conducente, che ha riportato alcune contusioni, ma la situazione in quel tratto della 71 è diventata ormai una vera e propria emergenza. Grazie a tutti.